La prima diocese che accoglie la Madonna di Bonaria è un dono di grande festa per voi? Sì, la prima ma poi sono le altre, quindi cerchiamo di essere anche in sintonia con tutti. E chiediamo proprio che possiamo crescere così com'è, come disponibilità a camminare da cristiani. La sua è stata una preghiera la Madonna stamattina? Sì, sì, era un saluto a lei più che un saluto ai presenti e mi sembrava giusto, stiamo accogliendo lei non tanto, così, in questo senso. Auguri, auguri alla tua. Già, grazie. C'è una foto? Sì, sì.